Non hanno rispetto nemmeno per Sant'Anna, ormai è evidente come si sia superato ogni limite. Non è solo questione di inciviltà, ma si tratta di veri e propri crimini contro l'ambiente e la nostra stessa salute. Ovunque c'è spazzatura abbandonata, ma adesso si sono messi a scaricare rifiuti e materiale vario anche nella strada che porta al santuario di Sant'Anna, uno dei luoghi più belli e carichi di spiritualità della montagna di Erice, dove non si era mai arrivati al punto di vedere cumuli di immondizia a bordo della stradina ed invece ci hanno portato pure porte e finestre provenienti da qualche abitazione. Insomma, si è andati oltre il concetto di vergogna, visto che in questo modo si offende anche un luogo della fede. Le porte, le finestre, le sedie, i vasi e tutta l'altra roba di chissà quale casa sono state abbandonate lungo la strada carrabile che porta al santuario, ma anche al sentiero di Sant'Anna, da dove passa il sentiero Italia del Cai. Appare evidente come così non si possa più continuare e non si possono mettere telecamere in ogni angolo. La questione va affrontata con controlli sistematici per beccare i responsabili sul fatto. Per fare ciò bisogna mettere le forze dell'ordine e le guardie ambientali nelle condizioni di fronteggiare questa vera e propria emergenza ambientale. Se si continua così il rischio è di ritrovarsi con le montagne e le campagne ridotte a discarica.